Ciao! Nel video degustazione di oggi c'è un Soave Doc Le Pieve, quindi la cantina di Soave perché è prodotto e imbottigliato da loro. Questo prodotto in particolare non lo conosco ma di Soave ne ho bevuti parecchio quindi ti posso assolutamente dire che è un uvaggio 100% garganega e non vedo l'ora di andare ad aprirlo. E mentre andiamo a versarlo ti voglio dire che ha un titolo accolometrico di 11,5 e che aprendolo ho notato che il tappo è in plastica quindi magari non sarà il massimo però adesso lo assaggiamo. Il colore è un giallo paglierino con dei riflessi verdolini. Anasa sicuramente della frutta bianca, quale pera, ma anche del maracuja e anche una nota un pochino vegetale e floreale. Sembra camomilla. È un finale anche un pochino mandorlato ma quello è un pochino tipico della garganega. In bocca è fresco, morbido, secco, anche se secondo me è un pochino più spostato sulla parte delle durezze quindi non è molto armonico come prodotto. In abbinamento con questo prodotto io ti direi sicuramente un pesce magro quindi un merluzzo, un merluzzo con una cottura magari al vapore che quindi rimane leggero. Sì, non sarà il massimo nel senso che magari è un po' triste però c'è sempre un prodotto da poterci abbinare. Ci vediamo al prossimo video e ricordati di bere senza perdere la dignità.